Non sei vaccinato? Bravo. Complimenti. Continua così. No, io sono vaccinata perché voglio vivere in tutta serenità con la mia famiglia. Ci sono ormai dati inoppugnabili che la vaccinazione ci protegge dalla malattia grave, dalla ospedalizzazione ed anche dal contagio per oltre il 90%. Non ti fidare, e poi che ti interessa degli altri, la solidarietà, ma poi pensa ai fatti tuoi. No, io sono vaccinato perché rispetto i miei colleghi e soprattutto non dimentico gli adulti. Io non mi vaccino perché non voglio ammalarmi, ma mi vaccino perché voglio star bene, io ed i miei cari. Non dar retta a loro, dietro c'è il business di Big Pharma. Col vaccino presto ti ammalerai. No, io sono vaccinato e sono in splendida forma. Infatti ho appena vinto una medaglia d'oro olimpica, quindi... Coloro che pur vaccinati, se dovessero contagiarsi, hanno una malattia assolutamente lieve o sono addirittura asintomatici. Oh, abbiamo finito? Me ne posso andare? Grazie. Certo che con il lavoro che fate il vaccino è proprio fondamentale. Mi fido di voi. Grazie.